ZU Quando mamma e papà sono svegli, ZU ha il permesso di salire sul lettone. Toc toc, siete svegli? chiede ZU. Dormiamo, rispondono i genitori. Come svegliarli senza farsi sgridare? Ci vorrà un caffè, molto caffè, dentro grandi tazze con lo zucchero e poi dei cereali e anche un piattino di marmellata. Tutto questo fa una grande prima colazione, che bisogna portare facendo molta attenzione. Oh no! Peccato! Bisogna ricominciare da capo. Ma c'è rimasto solo un piccolo avanzo di caffè. Non basta neppure per riempire la tazzina più piccola di casa. E per svegliare mamma e papà ci vogliono delle tazze piene. Se si prendono delle tazze delle bambole, saranno piene fino all'orlo. Ne rimane persino un po' per la caffettiera. Tutto questo fa una deliziosa prima colazione, molto facile da portare. Toc toc! Prima colazione, dice ZU. Mmm, che buon odore di caffè, dicono i genitori. Questo ci sveglierà. È difficile per le zebre grandi tenere le tazzine delle bambole. Mi metto tra voi due per aiutarvi, dice ZU. Una tazza per la mamma. Una tazza per il papà. Grazie, ZU. Che deliziosa prima colazione. È davvero una piccola prima colazione. Ma non basta per svegliarsi davvero. Giusto è il tempo di dare un bacino al piccolo ZU. Fine. Grazie. Grazie.